La Zessa Abruzzo non c'è più ormai da sei mesi, ma i progetti restano ancora in piedi, quelli che avevano avuto un avvio con il commissario Miccio e quelli che sono in fase esecutiva, i sei grandi progetti, ma ci sono anche degli interventi privati che appunto erano sottoposti a quel regime. Ora è transitato tutto a livello centrale, alla struttura di missione, ma cominciano a sentirsi malumori in giro, nel vostro mondo, soprattutto quello delle imprese, ma anche in quello dei professionisti, circa il fatto che ci sono molte situazioni confuse e rischi concreti che non si arrivi al traguardo. Siamo assolutamente preoccupati per una situazione che vedeva già nel 2023 l'Abruzzo essere già avanti rispetto alle altre regioni sulla Zess, lo diceva proprio lei direttore, con i sei progetti infrastrutturali cui il commissario Miccio era riuscito a appaltare, a far partire, uno solo di questi è stato inaugurato sulla piattaforma di Saletti, che è una piattaforma importante dal punto di vista ferroviario per la distribuzione delle merci, ma ricordiamo ci sono interventi sul porto di Ortona, ci sono stati interventi sul porto di Vasto, sul interporto di Manoppello, tutte infrastrutture strategiche rispetto alla natura della zona economica speciale. L'Abruzzo aveva avviato anche una progettualità aziendale, noi avevamo avuto più di 30 richieste e addirittura 27 richieste di autorizzazione unica, 9 erano state già approvate. Il totale di questi investimenti dava un'occupazione per 385 unità, stiamo parlando di più di 750 milioni di investimento. Tenuto conto che il commissario Zess, con una ricognizione che ha fatto su oltre 400 imprese aburzesi, 196 avevano manifestato l'interesse ad avviare investimenti fino al 2026 per più di 1 miliardo 359 milioni. Ecco, questi numeri oggi sono completamente rimessi in discussione. Noi avevamo uno sportello a livello regionale con degli impiegati e anche alcuni tecnici che ricevevano direttamente le aziende ma anche le stesse pubbliche amministrazioni perché rispondessero con velocità alle richieste delle aziende. Allora, ecco, non vorrei che questa situazione penalizzi la nostra regione ma penalizzi tutto il sistema Zess abruzzese.